Siamo con Passoni Luca. Come mai la Casa Tese di Rogoledo? Allora, ho scelto la Casa Tese perché innanzitutto, prima cosa, mi hanno fatto sentire una forte volontà di volermi qua, già dai primi mesi del mercato e poi soprattutto quando sono venuto qua ho visto un gran centro, una società forte e un bel progetto che ho deciso di seguire. La preparazione come sta andando? L'operazione sta andando bene, si vede. No, tutto bene, siamo facendo dei bei lavori, un bel gruppo, una buona organizzazione che non ho mai visto e quindi tutto bene direi. Vuoi sbilanciarti? Su cosa? Sul campionato? No, il campionato? No, vabbè, noi abbiamo un buon gruppo, una buona società, abbiamo delle buone intenzioni, però io direi che andiamo avanti pensando partita dopo partita e quindi sicuramente prima ci salviamo e poi vediamo cosa viene. Ok, grazie a te. Grazie a te.